Gentili telespettatori, buona giornata. Si sono incontrati per una riunione Matteo Salvini e Giorgia Meloni, questa volta senza Forza Italia, senza Berlusconi o Tajani. Di solito si incontravano Salvini e Berlusconi, escludendo Giorgia Meloni. Questa volta succede qualcosa di diverso, si incontrano Salvini e Meloni. Incontro per fare il punto della situazione politica e l'intenzione è di un successivo incontro a stretto giro. Un incontro durato un'ora, quindi con parecchie cose da raccontarsi, si sono trovati nello studio alla Camera della leader di Fratelli d'Italia. Un incontro programmato, assicurano dal partito di Matteo Salvini e da quello di Giorgia Meloni, ma che sarebbe passato probabilmente inosservato in un lunedì pomeriggio di un Montecitorio quasi deserto. Quindi anche il solo averlo voluto comunicare ufficialmente da parte dei due leader assume un significato importante, anzi, diversi significati. I due danno un segnale che le ricostruzioni, suddivisioni, lite e rivalità di sensi sono sbagliate. In realtà non sono sbagliate, ci sono e come. E il comunicato dice non c'è nessuna guerra sotterranea per la leadership, abbiamo parlato di tutto in un clima molto distensivo. Ci rivedremo presto, fanno sapere entrambi. Non c'è nessuna lotta per la leadership, non è vero. Ieri Matteo Salvini ha detto che fra un anno governerà il centrodestra con a capo la Lega e io Premier e Giorgia Meloni intervistata ha detto Salvini Premier decideranno gli italiani. Insomma a me non la raccontano però può essere che il popolino crede a queste cose, io no. Il secondo punto che l'incontro rompe l'immagine quella di Villa Grande, tenuta romana del Cavaliere, dove Berlusconi si poneva come il leader che dava le carte e indicava il cammino, la luce in fondo al tunnel. Berlusconi ha fatto capire voi siete troppo caratterizzati, non potete fare i leader del centrodestra e manco il capo del governo, dobbiamo trovare un'altra persona. In mente loro avevano detto cosa sta dicendo questo qua? Il Berlusconi che un tempo aveva il 30% ora ha un partito del 6% e va a dire a quelli che hanno tutti e due insieme il 40-41% dell'elettorato che non sono buoni a fare sto lavoro? E beh, caro Silvio te le sei cercate? Cosa vuoi che ti invitano? Tu che ti sei autoproclamato il leader perenne, perpetuo del centrodestra? Si sono riuniti perché i leader sono loro due, davanti Meloni, davanti Salvini, dipende dal sondaggio, dipende da quello che vi fa più piacere. Difficile, solo in Ipsos c'è davanti Salvini come partito a Fratelli d'Italia. In tutti gli altri Salvini è il terzo partito e Giorgio Meloni oscilla tra il primo e il secondo. Anche lì è tutto da vedere. Da forze d'Italia dicono ma non c'è nulla di strano. Stavolta i due leader sembrano voler dimostrare che non hanno bisogno di nessun padre nobile o mediatore per mettersi d'accordo e fare asse. Anzi, vanno avanti convinti su una linea diversa da quella di Berlusconi, contrario ad elezioni anticipate disponibili a sostenere Draghi anche dopo il 2023. Berlusconi insiste che Salvini e Meloni non sono capaci. Meglio chiunque altro che loro due. Meglio Draghi anche dopo il 2023. Quindi o Berlusconi va al Quirinale così la smette di dire queste robe qua. Se ce lo mannate al Quirinale è un conto, ma governare eventualmente l'Italia con Berlusconi e Forza Italia che rema contro non è propriamente un qualcosa di idilliaco. Naturalmente Salvini e Meloni non hanno bisogno di Berlusconi che gli indica la luce in fondo al tunnel. Mentre quindi Salvini e Meloni ipotizzano proprio forse tutti e due le elezioni anticipate. Salvini sarebbe dell'idea di aspettare quei frutti che diceva Giorgetti, no? Beh, siamo entrati nel governo, dobbiamo raccogliere i frutti. Adesso arrivano. Quando? Eh, arrivano. Salvini dice, beh, i frutti magari li lascio sull'albero, tutti i frutti. Forse è meglio andare subito al voto ancora che qualche sondaggio mi dà davanti a Giorgia Meloni perché magari tra un anno non è più così. Magari quella è al 28%, io sono al 10%. Allora forse è meglio giocarsi la carta adesso, i frutti di Giorgetti che se li raccolga da solo. No? Tu stai lì, Giorgetti, poi aspetta che sono maturi sull'albero. Salvini e Meloni negano di aver organizzato l'incontro per dare un segnale a Berlusconi. Ma se Berlusconi non l'ha capito fino adesso, vuole che questi due qua lo mandano al Quirinale e continua a dirgli che non sono buoni a fare niente in politica. Non mi sembra che Berlusconi sia proprio lucido in questo momento. Ecco, quindi fanno bene ad escluderlo a questo punto. Poi se avranno voglia proveranno a mandarlo al Quirinale, se no voteranno qualcun altro realmente. In Forza Italia mostrano però irritazione. Dice nulla di strano, vorranno far vedere che vanno d'accordo. Meloni e Salvini assicurano anzi che presto si vedranno tutti insieme anche in settimana se le agende lo permetteranno. Ma confessano che le ultime mosse del Cavaliere non sono piaciute. Eh, insomma. Certo che Berlusconi e Giorgetti potrebbero far comunella, potrebbero mangiarsi una pizza. Visto che Giorgetti si mangia la pizza con Di Maio, potrebbero invitarla la prossima volta anche Berlusconi. Berlusconi a mandarci una pizza con Di Maio e me. Ecco, i tre a mangiarsi una pizza. Così si riuniscono per parlare un male di Salvini, perché questo è quello che fanno secondo me. Non hanno apprezzato i due leader che Berlusconi abbia dato l'impressione di trattare da solo con Enrico Letta. Ma questo magari lo vediamo nel prossimo video che abbiamo un pochino più di tempo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video. Grazie, abbiamo sorpassato, superato i 142.000 iscritti. Più o meno sono mille iscritti a settimana. mille è la differenza tra quelli che si iscrivono e quelli che si cancellano. Quindi ogni settimana il saldo è di solito mille in più. Magari sono mille cento che si iscrivono, cento che si cancellano e più o meno quello è mille alla settimana. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.